Siamo arrivati al finale di stagione di Pam e Tommy, questa serie incentrata sullo scandalo del sex tape finito in rete di Pamela Anderson e Tommy Lee negli anni 90. Con questa ottava puntata prodata su Star, sezione di Disney+, questo mercoledì si conclude una serie decisamente riuscita che a me è piaciuta moltissimo e questa ultima puntata, questo finale di stagione, torna ad essere diretto da Ginnett Order Peyton. I miei complimenti più grandi vanno a Lily James e a Sebastian Stan perché interpretano in maniera perfetta le due celebrità e per di più è una serie che oltre a raccontarci un qualcosa di molto doloroso per la vita di Pam e per la vita di Tommy, è una serie ricca di concetti, di significati. Viviamo in un'epoca oggi come oggi dove ahimè purtroppo e questa cosa fa schifo anche solo da pensare irreverente range porn continua sempre più, filmati che si trovano su internet senza l'autorizzazione dei diretti interessati, ragazze specialmente che han paura anche ad uscire di casa o a farsi vedere per il timore di essere giudicate solo perché si sono fidate di una persona che poi è riuscita solamente a tradire la fiducia di quest'ultima pubblicando online, condividendo contenuti riservati, intimi e personali. Quindi seppur tutto ciò si svolga negli anni 90 agli albori di un nascente internet, è una serie attualissima perché se è stata male, questo lo dico sempre, una celebrità come Pamela Anderson che potesse avere i migliori avvocati, le migliori difese, tutti i soldi per portare in tribunale i diretti interessati, figuratevi come può stare una ragazza, un ragazzo, come potrei essere io, come potreste essere voi, come potrebbe essere il vicino di casa vostra che da un giorno ad un altro si ritrova a vivere una vita che non gli appartiene più perché è sotto la luce dei riflettori, perché un qualcosa suo di privato comincia a girare in lungo e in largo, deve essere una sensazione terribile perché poi non si può fare niente, cioè non è che tu dici ok hanno caricato questi video, denuncio colui che li ha postati online, già trovarlo è difficile e poi i video spariscono, no? Perché poi si diffondono a mattia d'olio, li puoi scaricare sul pc, li ricarichi, quindi li elimini, li ricarichi, li tieni sul tuo pc senza il bisogno di caricarli online, quindi cioè una volta che qualcosa viene messo online, internet è proprio una rete, una rete che contiene tutto, cioè quando si dice si naviga in rete è vero, però è una rete anche che possa imbrigliare tutti questi contenuti che si riformano, si riformano, si riformano e quindi questa serie oltre a raccontarci una storia vera è come se parlando di Pan e di Tommy ci parlasse di migliaia di altri casi purtroppo, casi dove forse è finita anche peggio perché pensiamo a persone che si sono suicidate, persone che si sono uccise, persone che hanno perso l'autostima nei confronti di se stesse, che hanno paura anche a guardarsi allo specchio, quindi è importante vedere una serie come Pan e Tommy per capire quanto squallido sia un gesto del genere, in questa puntata ovviamente farò spoiler, quindi nel caso non l'aveste vista recuperatevela, abbiamo un RAND che si pente delle azioni portate avanti, si pente il nostro Seth Rogen, si pente di aver rubato il video, di averlo venduto, però ormai il danno è fatto, quindi non è che basta pentirsi poi per ripulirsi la coscienza o per non far soffrire più i diretti interessati, quindi è molto importante sì che una persona abbia almeno la coscienza e un minimo di umanità per capire il gesto atroce fatto, però è anche vero che questa ultima puntata, questo finale di stagione fa quasi sorridere cinicamente e amaramente dal momento in cui ci ritroviamo di fronte a un'ingenua Pamela Anderson che è disposta a vendere i diritti a questo Wachowski, ora non ricordo come si chiamasse, che è disposta a vendere i diritti a questo ragazzo che si occupava di internet, si occupava di spettacoli sexy online che abbiamo visto nel corso delle puntate, il ragazzo propone loro, vedete, se lo lasciate gratuito tutti lo potrebbero vedere si diffonderebbe a macchia d'olio, ma se invece mi vendeste i diritti, beh il video sarebbe destinato solamente a quelli che pagano, quindi ai diretti interessati che hanno voglia di sborsare, quindi state tranquilli perché se poi il video qualcuno lo caricasse senza pagare venisse visto, beh verrebbe subito tolto, no, cioè andrebbe contro la legge e fa ridere un po' sentire queste cose quando poi sappiamo che l'illegalità regni sovrana su internet, quindi magari Pamela Anderson nel male della situazione pensa che firmando e alla fine convincendo perlomeno costringendo anche Tommy Lee a farlo, la situazione si possa un minimo ridimensionare non sapendo che poi con internet si puoi pagare quanto vuoi per vedere un contenuto, ma si diffonderebbe lo stesso perché i siti illegali, che è già una cosa illegale, figuriamoci, i siti illegali dove puoi trovarlo gratuitamente per scaricarlo, nessuno si aspettava però ai tempi, agli albori di internet che la rete potesse essere anche questo, quindi Pamela Anderson ha cercato di tamponare la ferita per poi, questa la puntata non ce lo mostra giustamente ma perché lo sappiamo noi, lo sappiamo noi come è stato lo sviluppo della rete, lo sviluppo di internet, sappiamo quanti danni possa fare. Lei ha cercato di tamponare il tutto e invece forse è passata come quella che speculasse sul proprio corpo che alla fine nonostante quanto potesse dire di star male abbia accettato di guadagnarci, di lucrarci sopra e questa cosa è terribile perché invece vediamo una donna che è stata male, interpretata benissimo da Lily James, allo stesso tempo Sebastian Stan, ottimo, mi è piaciuto anche lo sconforto dell'uomo perché giustamente la donna è al centro di tutto, perché giustamente per la donna è diverso, perché lo sappiamo se l'uomo fa certe cose è un grande, se le fa una donna è una poco di buono, però è interessante vedere anche il dolore dell'uomo che comunque in una scena con un altro dei Motel Crow dice proprio che io durante i concerti mi spogliavo ma ero consensiente, lo volevo fare, questa volta hanno rubato la mia privacy, la mia intimità, io non volevo, quello era un video che manifestasse il nostro atto d'amore, la nostra prima notte di nozze, quindi è molto interessante perché siamo sempre abituati, giustamente perché le donne le superano più difficilmente queste situazioni, però è stato bello anche vedere il punto di vista maschile, il punto di vista di un uomo che ama sua moglie, che si lascia prendere molto spesso da questo modo di fare un po' burbero, un po' fumantino e la prima a dispiacersene è la nostra Pamela che in questa puntata più volte vorrebbe allontanarsi da lui ma poi si lascia sempre convincere, scappiamo insieme ed andiamo a Las Vegas, una sera si ubriacherà, Tommy Lee inizierà a scherzarci sopra perché ormai è distrutto per la situazione e poi la nostra Pam convincerà Tommy a firmare questo contratto, quindi essere inermi, non poter fare niente di fronte a chi con la faccia come il culo ti si presenta davanti e ti dice ho buttato giù una bottiglia d'acqua, ti dice fate voi con la faccia proprio sorridente a stronzo, fate voi se volete che il video si diffonda altrimenti firmate qua e almeno sarà tutto più contenuto e certo come no. Quindi devo dire che è stata una puntata molto significativa, concettualmente rilevante, come ogni biopic che si rispetti sul finale ecco che appaiono le scritte per dirci quel che sarà il futuro di Pam e Tommy ed è triste, è triste pensare che Pam e Tommy si siano separati, che per di più Tommy abbia aggredito nel 2008 Pam in cucina, lui ha ammesso le sue colpe e abbia fatto sei mesi di carcere, poi nel 1998 scusate, poi nel 2008 han provato a rimettersi insieme ma non è durata, però tuttora continuano a considerarsi i più grandi amori della loro vita, quindi Pam considera Tommy il suo più grande amore e Tommy considera Pam il suo più grande amore. È molto bella come cosa però peccato che ci siano state queste turbulenze, peccato che ci siano state delle violenze perché già era stata violata la nostra Pams e poi ha dovuto subire violenze anche da colui che diceva di amarla, è tutto molto triste. Però ecco mi fa piacere che questa storia sia stata raccontata, secondo me per quanto la nostra Pamela Anderson abbia deciso di non visionare la serie, penso proprio che invece visionandola capirebbe che non si sia voluto speculare sull'accaduto ma che si sia voluto anche raccontare un qualcosa di significativo e importante che possa lasciare un messaggio, perché se una persona dopo aver visto questa serie pensasse a quanto è bello condividere materiale privato online sarebbe una persona con decisamente poco sale in succa. Quindi per quanto Pam abbia annunciato un documentario sulla sua vita dove racconti tutta la verità mi farà molto piacere visionarlo, ha aperto proprio il profilo Instagram personale per annunciare questo documentario. Io posso dire dopo otto puntate di aver apprezzato tantissimo questa serie che si basa proprio sull'articolo di giornale che uscì ai tempi, hanno comprato i diritti, questa cosa può essere lecita o perlomeno legalmente lecita, può essere poi moralmente discutibile, però il cinema, le serie hanno sempre svolto questo tipo di lavoro, quanti film, quante serie hanno fatto su eventi tragici, su stragi di mafia, su serial killer, cioè se dovessimo ogni volta rispettare anche la sensibilità dei diretti interessati penso che una grande fetta di serie o di film non esisterebbe, è giusto, è sbagliato, io rispetto sempre tutti, però penso che il cinema essendo specchio della realtà faccia anche bene a raccontare in un certo modo ovviamente queste storie. Spero solo che ecco possa lasciare il messaggio giusto quando qualcuno la vede e che possa essere apprezzata perché c'è una ricostruzione scenografica a livello di costumi ma proprio anche le interpretazioni, è tutto realmente ottimo e quindi non posso far altro che complimentarmi, complimentarmi per ciò che ho visto, pensare che si siano fatti milioni su un video che sarebbe dovuto essere privato per i nostri due protagonisti, sul finale si parla tipo di 77 milioni, cioè cose assurde, un giro d'affare incredibile ed è una cosa disgustosa, immaginatevi se lucrassero sul vostro corpo, sulla vostra immagine senza che voi aveste dato il consenso, è un qualcosa di terribile. Quindi devo dire che Pam e Tommy è una serie che abbia saputo sorprendermi, tra gli ideatori Craig e Lespy, poi vari registi, anche donne molto importante, che si sono susseguiti dietro la macchina da presa. Sono molto curioso di sapere la vostra, spero che mi facciate sapere nella sezione commenti, nel caso non l'aveste vista trovereste tutta la serie su Star, quindi fatemi sapere. Vi ricordo che nelle info trovereste anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. PS, ho partecipato a due nuove live, una sul canale di Quarta Parete dedicata ad Occhiali Neri e un'altra invece sul canale di Dendry Cinema 98 dove abbiamo commentato i trailer di Animali Fantastici, l'annuncio di Io sono leggenda 2, altrimenti ci arrabbiamo e Bullet Train, insomma non perdetevi le dirette e io vi allego il link qua sotto così come vi allego il link alla prima puntata della retrospettiva sugli X-Men sul canale di Matioschi. Un caro saluto ragazzi e noi ci vediamo ad una prossima recensione.